Hello children, good morning and welcome to a new English lesson. Buongiorno bimbi e benvenuti ad una nuova lezione d'inglese. Cominceremo una nuova unità didattica che si intitola Fun with Food. Food, cibo. Impareremo innanzitutto i nomi che riguardano il cibo e andiamo subito al nostro libro. Ecco, siamo alla unit 5, Fun with Food. Food, ripetete con me, food. Questa parolina significa cibo, ok? Osservate, osservate l'immagine. C'è questo, c'è questa tavola, ci stanno, c'è questa bimba, questo bimbo che stanno preparando del cibo, poi ci sono tanti cibi messi proprio sulla tavola. Ecco, c'è la torta, numero 8, il pesce, 5, c'è un succo, del pane, della carne, del gelato, del formaggio, caramelle, frutta e verdura. Ok. Poi c'è questo mostriciattolo che dice Do you like cheese? Ti piace il formaggio? Perfetto. Adesso andiamo ad ascoltare tutte queste, tutte e dieci queste paroline che riguardano il cibo. Ascoltiamo e ripetiamo. Pronti? Eccoci. Unit 5 Fun with food Page 56 Exercise 1 1 Ice cream 2 Meat 3 Vegetables 4 Juice 5 Fish 6 Fruit 7 Cheese 8 Cake 9 Bread 10 Sweets Ok. A vedere ripetuto. Adesso andiamo a vedere queste paroline a cosa corrispondono. 1 Ice cream Dov'è il numero 1? Eccolo. Ice cream è il gelato. 2 Meat Qual è meat? Eccola la carne, la numero 2. Vegetables 3 Vegetables Le verdure Vegetables 4 Juice 4 Juice Il succo. Eccolo il numero 4. Fish Number 5 Fish Ecco qua che c'è il gatto che cerca di rubarlo. Fruit 6 Frutta Cheese 7 Eccolo. Cake 8 Eccolo qua la torta. Cake Bread 9 Il pane Sweets 10 Le caramelle. Ok. Riascoltiamo ancora una volta e ripetiamo. Unit 5 Fun with food Page 56 Exercise 1 1 Ice cream Ice cream 2 Meat 3 Vegetables 4 Juice 5 Fish 6 Fruit 7 7 Cheese 8 Cake 9 Bread 10 Sweets Perfetto. Attenzione adesso. Perché dovrete fare un esercizio sul vostro quaderno. Quale esercizio? Dovrete copiare queste dieci paroline, ok? In colonna. E di fianco disegnarci il cibo a cui corrisponde. Per esempio scriviamo ice cream e di fianco ad ice cream ci disegniamo la torta, ok? Perfetto. Attenzione a questa frase. Do you like cheese? Ti piace il formaggio? La risposta può essere yes oppure no. Con questa formula possiamo chiedere ai nostri amici, ai nostri genitori, ai nostri fratelli e sorelle, se loro amano questi cibi. Per esempio, basta sostituire la parolina che riguarda il cibo, togliamo cheese, per esempio, mettiamo ice cream, e abbiamo costruito una domanda, ti piace il gelato? Do you like ice cream? Do you like meat? Do you like vegetables? Do you like juice? Ricordate questa formula, è importante perché prima della prossima lezione ci lavoreremo. Do you like? Altra parolina importante da ricordare è food, cibo, food. Adesso attenzione, perché passiamo a pagina 98, ok? Dove c'è questo esercizio. Facciamo solo l'esercizio numero uno. Dobbiamo risolvere questi anagrammi, ok? In ognuno di questi spazi c'è scritto il cibo che abbiamo studiato a pagina 54, però le letterine sono mischiate. Quindi voi dovrete fare questo gioco e risolvere questi anagrammi, ok? Per esempio, guardate questo qua. Il primo, no? C'è l'esempio. C'è scritto m-re-cie-ca. In realtà, mischiando le parole, esce fuori la parolina ice cream. Oppure guardate questa. Ri-fru-t. Secondo voi che parolina è? Ma è fruit, ok? Lo stesso dovete fare con queste altre. Facciamo solo questo esercizio, solo il numero uno. E sul vostro quaderno riscrivete queste paroline nell'ordine in cui sono messe sull'esercizio. Vedete? Per esempio, la prima parolina che riscriverete è ice cream. La seconda è fruit. La terza, quale sarà? Tocca a voi. Per oggi ci fermiamo qua. Vi auguro buon lavoro. E ci sentiamo presto. Bye bye.